Ciao, oggi vi presento la squadra degli assessori che costituiranno la giunta del Movimento 5 Stelle Roma. Venite a conoscerli. Questa è la porta sulla quale si apre la sala delle bandiere, la sala dove normalmente si svolgono le riunioni di giunta. Ciao ragazzi! Vorrei che faceste una piccola presentazione di voi, nome e assessori per tutte le persone che ci seguono. Vogliamo iniziare? Prego, dal vice sindaco. Sono Daniele Frongia, mi occuperò di sport e di accessibilità. Sono Marcello Minenna, mi occuperò del bilancio, del patrimonio e del riassetto delle partecipate. Adriana Meloni, assessorato al sviluppo economico e turismo. Paolo Berdini, urbanistica e lavori pubblici. Sono Paola Muraro, mi occuperò di sostenibilità ambientale. Sono Linda Meleu, mi occuperò dell'assessorato per la città in movimento. Salve, Laura Baldassarre, mi occuperò di persona, di scuola e di comunità solidale. Sono Luca Bergamo e mi occuperò di cultura. Flavia Marzano, Roma Semplice, trasparenza. Questa è la mia squadra, sono cittadini, persone che vogliono dedicare il loro tempo per far rinascere questa città. Ricordiamoci sempre da dove siamo venuti, continuiamo a scendere per la città. Questo è quello che ci chiedono i romani e noi lo faremo. Ciao, a presto!